Chiuse ai visitatori, ai parenti, le visite agli ospiti della RSA Serristori di Castiglione Fiorentino che vedete alle mie spalle. Nelle mura della struttura c'è ancora il lenzuolo con la scritta Andrà tutto bene, un po' scolorita, ma oggi necessaria più che mai. La curva dei contagi sta risalendo in maniera esponenziale. Nelle ultime 24 ore sono 79 i casi positivi nella retino. La RSA Cosimos Serristori di Castiglione Fiorentino è tra le prime a dare corso all'ordinanza regionale che estende a tutta la Toscana la misura preventiva di chiusura alle visite dei parenti nelle residenze sanitarie per anziani. Nasce sicuramente per una forma di tutela delle categorie più deboli. Le residenze sanitarie protette sono luoghi sensibili e nasce ovviamente anche in seguità a un'ordinanza che non abbiamo assolutamente esitato a adottare. Questo è il motivo di questo primo accorgimento anche locale perché ogni realtà ha le sue strutture sanitarie. Noi qui in questo territorio ne abbiamo tre. Fortunatamente nella prima fase ci sono stati scarsi casi, se non praticamente nulli, però è una parte che ci sta quella lì, è un settore che ci sta particolarmente a cuore. Il primo cittadino di Castiglione Fiorentino puntualizza anche su un altro tema delicato sollevato pochi giorni fa da un altro sindaco dell'Arettino la tempistica con cui vengono comunicati i casi di positività dalla ASL ai sindaci. Io nel sistema informatico messo a disposizione dalla regione in cui entro con il mio codice fiscale ho avuto comunicazione di un unico caso. In realtà da fonti non ufficiali in una giornata come quella di oggi mi risultano tamponi effettuati da cittadini di Castiglione Fiorentino il cui esito per una decina di loro dovrebbe essere positivo che io vedrò domani. È la tempistica del giorno dopo. Io non voglio contestare la regione, la ASL, il Ministero della Salute. Io dico semplicemente che siamo per definizione autorità sanitaria ma all'atto pratico un'autorità sanitaria che viene dopo i giornalisti e che viene dopo probabilmente anche tutti i passaggi intermedi che ci sono forse il nostro deve essere un ruolo ridimensionato a partire da quei dispositivi di sicurezza che emana il Ministero degli Interni e che poi attraverso le prefetture viene impartito alle forze dell'ordine. Quindi alla fine ritengo che questo ruolo, non è il tempo di fare polemica, siamo d'accordo, però il nostro ruolo è fortemente ridimensionato in questo contesto. E un po', lasciatemelo dire, mi stupisce il silenzio assordante anche di alcuni colleghi che hanno tutti contestato questa modalità ma poi alla fine probabilmente si preferisce aspettare che qualcuno si ravveda.